Sono cominciate oggi in tutta la Puglia le somministrazioni del vaccino anticovid ai cittadini over 80. Il punto vaccinale della città di San Giovanni Rotondo è il centro polivalente Emma Francavilla, messo a disposizione dal Comune per svolgere l'importante campagna di immunizzazione. All'interno della struttura sono state allestite due postazioni che permetteranno la vaccinazione a più persone contemporaneamente. 1.500 le prenotazioni registrate finora, 184 ai cittadini ultraottantenni che oggi si sono sottoposti al vaccino, una media destinata ad essere costante anche nei prossimi giorni. Presente la protezione civile è impegnata nell'accoglienza e nella distribuzione del modulo di consenso alla vaccinazione. Entro una quindicina di giorni tutti gli anziani della nostra città avranno ricevuto la prima dose di vaccino, ha dichiarato la dottoressa Angela Antonacci, dirigente medico dell'Asra di San Giovanni Rotondo. I numeri del contagio nella nostra città stanno registrando una leggera diminuzione, ma non bisogna abbassare la guardia, ha scritto su Facebook il sindaco di San Giovanni Rotondo Michele Crisetti. È necessario procedere celeri, vaccinare il più alto numero di persone in fretta. La lotta al virus è ancora molto lunga, ma dalla nostra abbiamo un'arma potentissima, il vaccino. La lotta al virus è ancora molto lunga, ma dalla nostra città di San Giovanni Rotondo.